La sessione di oggi pomeriggio ha messo in luce una serie di problemi, problemi molto importanti e problemi molto complessi, problemi che devono dare alla comunità scientifica un ruolo importante per trovare una soluzione. Sono problemi ovviamente infrastrutturali, sono problemi che richiedono sicuramente degli investimenti importanti, ma c'è anche la necessità di una consapevolezza da parte della comunità del ruolo che può svolgere questa comunità per la soluzione di questi problemi, che possono essere in termini di regole, in termini di analisi scientifica dei problemi, in un contesto di creare quelle condizioni per cui poi possono essere trovate le soluzioni tecniche, le soluzioni tecniche che passano attraverso dei finanziamenti, attraverso delle azioni di coordinamento, che poi è quello che manca fondamentalmente, azioni di coordinamento. Le azioni di coordinamento nascono nel momento in cui si è presa visione della complessità del problema e quindi a quel punto si devono individuare le soluzioni attraverso azioni concrete di coordinamento. Credo che oggi pomeriggio questa commissione, questa sessione, queste persone che sono intervenute e tutta la platea dei congressisti abbiano dato un primo segnale e una prima indicazione di come operare.